Coordinare i flussi e sensibilizzare i cittadini di Torre del Greco all'uso corretto della mascherina. Questo l'obiettivo dei volontari del Corpo GAV, Guardie Ambientali Volontarie, che questa mattina nella piazzetta di Torre del Greco hanno svolto attività di vigilanza per evitare situazioni di possibili assembramenti. In molti casi i volontari dotano in modo del tutto gratuito i cittadini sprovvisti degli appositi dispositivi di protezione. Secondo le testimonianze si registra maggior rischio di assembramento non agli ingressi della piazzetta, bensì all'esterno dei singoli esercizi commerciali. In questa giornata cerchiamo di far ricordare alle persone di utilizzare la mascherina, ma alla meglio perché molte persone la utilizzano in un modo sbagliato. Devo dire che c'è stato un buon riscontro anche da chi magari non era propenso a farlo. Misuriamo anche la temperatura, qualcuno addirittura ce lo chiede per una sicurezza loro, non lo so, per incoraggiare questa cosa. La gente si è resa conto che i casi sono aumentati, questo è un punto dove praticamente c'è un grosso afflusso di persone, quindi è importante il distanziamento, la mascherina e il buon senso da parte di tutti quanti. C'è consapevolezza secondo lei del virus e della pericolosità? Adesso ci stiamo rendendo un po' conto tutti che la cosa è grave e quindi ci vuole la collaborazione da parte di tutti, se no questa cosa non finirà mai. E devo dire la verità, c'è un buon riscontro perché la gente ha paura. La nostra presidentessa, Raffaella Belfiore, ci ha munito di mascherine, diciamo le abbiamo comprate noi praticamente, ovviamente le doniamo alle persone che magari o non ce l'hanno o che magari messa male, usata male, troppo diciamo usata e questa cosa diciamo fa anche piacere per loro e per noi che in questo modo diciamo facciamo sì che la persona indossi la mascherina. Sono anziane, si preoccupano, vengono loro da noi per farsi misurare la temperatura e chiedere informazione. L'unica cosa, l'informazione è questa, mascherina e distanziamento. Ci fa piacere, però ci vorrebbe anche dei giovani che devono partecipare perché vedo che pochi giovani trovano tutte scuse che fumano per non indossare la mascherina. Domani ci sarà anche al cimitero, verranno il corpo GAV per la sicurezza. I tre giorni delle feste di Ponte dei Morti controlleranno anche questo. Tra i cittadini c'è chi non sembra totalmente d'accordo con l'iniziativa. Molte persone reagiscono magari anche con aggressioni verbali perché non ancora sono entrati forse nell'ottica di capire che la mascherina è una protezione per sé e per gli altri.